Si riparte da dove si era lasciato con le gemelle del gol, per te l'anno scorso tanti gol, Giulia Aiello e Chiara Di Lorenzo. Non è cambiato praticamente nulla? Non è cambiato praticamente nulla a parte la voglia che è maggiore e quest'anno puntiamo al campionato, abbiamo una squadra più forte grazie ai nuovi acquisti, per il resto è tutto uguale. Giulia, un inizio un po' timoroso, forse la squadra che avevate di fronte non vi lasciava molti spazi per poter gestire bene il gioco? Più che altro penso che noi abbiamo fatto difficoltà a prendere bene la partita di testa, ci siamo scaldati piano e solo nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare come possiamo. Allora l'anno scorso è successo un po' anche così, siete partite come un diesel e poi veramente avete espresso un buon futsal e comunque quando incontravate le squadre erano veramente qualcosa, una spina nel fianco per loro? Beh sicuramente anche l'altro anno abbiamo iniziato piano e poi con il tempo, con le partite, con i col fatti abbiamo preso consapevolezza e pure quest'anno anzi proviamo a iniziare da subito. Giulia, invece con te torniamo un attimo al fatto di colare, l'anno scorso ne hai segnati veramente tanto, sei risultata per un poco, non sei risultata la miglior realizzatrice del campionato, però vedendo la partita di questa sera qualcuno dovrebbe cominciare a pensare come porre rimedi? Beh diciamo che faccio il mio per la squadra e poi per me, l'obiettivo principale è la squadra, poi se viene qualcosa anche di personale è sempre ben accetto.